Il sale storico di Santià ha una precisa tradizione e un preciso arco temporale. Si apre il 6 di gennaio per finire il martedì antecedenti le ceneri. È un mix di storia e di tradizione. Noi ogni fine settimana dopo il 6 di gennaio giriamo con la squadra della Pula casa per casa per raccogliere le offerte. Una volta erano i prodotti per fare la colossale fagiolata del lunedì di carnevale e una volta ti davano il soldo per il sale perché una volta il sale era un bene prezioso quindi ti davano questo soldo per poter comprare. Oggi ti danno principalmente un'offerta. Ed è proprio questo che contraddistingue anche la nostra manifestazione il fatto di entrare nella casa delle persone. Le persone ti aprono la loro casa ma non ti danno esclusivamente un'offerta ma ti danno anche la loro ospitalità offrendoti un pezzo di pane salame, un'acciuga o qualcosa da mangiare. Quindi questo è un modo che il nostro carnevale entra nelle case. Quello che sicuramente è il fondamentale, il frutto della tradizione è la colossale fagiolata perché come dicevamo che si sfogge nel lunedì di carnevale dove andiamo a cucinare 20.000 porzioni di fagioli che distribuiamo gratuitamente alla popolazione. Questo sicuramente è uno dei fattori principali che ci contraddistingue. La colossale fagiolata, la più grande d'Italia. Qui alle mie spalle vedete il corpo pifferi e tamburi della città di Santià che rappresentano la scorta d'onore delle maschere ufficiali Steuling e Mayutin. E posso dire che loro quest'anno, come la regione Piemonte, compiono 50 anni. Il giusto di febbraio ci sarà a Santià il gran galà delle maschere e dei personaggi storici. Un evento importante sia per Santià perché segna lo scambio tra le maschere uscenti e le maschere entranti quindi Steuling e Mayutin che regneranno nel 2020 che usciranno e faranno il discorso dal balcone il sabato successivo. Quest'anno, grazie alla collaborazione dei quattro carnevali piemontesi e del Consiglio regionale in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni della regione Piemonte a Santià ci sarà appunto il gran galà delle maschere con tutte le maschere piemontesi e il Consiglio regionale ha redatto una pubblicazione delle maschere dei personaggi che verrà proprio presentata a Santià. Quelle che vediamo riprese sono le maschere ufficiali uscenti che regneranno ancora fino al giovedì grasso perché il sabato di carnevale saranno investite dal balcone della città riceveranno le chiavi da parte del sindaco, le chiavi della città e regneranno sulla nostra città e durante il periodo carnevalesco. Sono due giovani sposi nella tradizione carnevalesca che provenivano da due cascine del borgo della città di Santià da una parte all'altra proprio dei confini, ecco da quel punto di vista. Sono impersonate da due giovani ragazzi e abbiamo un'abbondanza di richieste di personaggi di fare la maschera e di impersonare la maschera quindi questo ci fa molto piacere perché la tradizione viene sempre rispettata e viene portata avanti sempre da giovani ragazzi e ragazze che vogliono portare avanti le nostre tradizioni popolari della manifestazione.